Il messaggio di quest'anno desidero richiamare l'attenzione sulla questione dell'acqua, bene primario da tutelare e da mettere a disposizione di tutti. Sono grato per le diverse iniziative che in vari luoghi le Chiese particolari e gli Istituti di Vita Consacrata e le aggregazioni ecclesiali hanno predisposto. Invito tutti a unirsi in preghiera sabato per la nostra Casa Comune, per la cura della nostra Casa Comune.